Allora, come già ci eravamo detti, l'argomento per oggi è quello di un'altra struttura data, di un altro tipo di contenitore, che lasciamo per ultimo, perché vogliamo quello un pochino più complesso degli altri, i cosiddetti dizionari. Vedremo prima il meccanismo di funzionamento di queste strutture dati, quindi come funzionano, come si inseriscono, ricercano gli elementi, eccetera, e poi ci accorgeremo che per come è fatta queste strutture dati si può in realtà usare in due modi diversi. Ci sono proprio due pattern di utilizzo abbastanza distinti che poi fanno capo entrambi alla creazione di un dizionario. Quindi se vogliamo una struttura dati abbastanza versatile, è un po' più complessa delle altre, lo vediamo subito. Allora, dizionario è un termine che Python usa per questa struttura dati, in altri linguaggi, in altre librerie ci usano termini diversi, ma non facciamoci, diciamo così, ingannare dal significato della parola dizionario che abbiamo imparato, che ne so, quando abbiamo studiato italiano o inglese. Cerchiamo di capire cosa fa. Un dizionario è una struttura dati che mette in collegamento due insiemi di valori, anche se insiemi lo sto usando in modo improprio, proprio, due, però diciamo insiemi. Un primo insieme che viene chiamato l'insieme delle chiavi del dizionario e un secondo che contiene invece dei valori. Quindi un dizionario collega a ciascuna chiave di un insieme di chiavi definite un valore che vogliamo attribuire a quella chiave. Questa è, se lo vogliamo, la definizione. In pratica, ad esempio, questo disegno ci fa pensare che la chiave, in questo esempio disegnato sulla slide, siano i nomi di alcune persone e a ciascuna persona è associato un valore che può essere, che ne so, il colore preferito, ad esempio. Quindi sappiamo che Romeo preferisce il verde, Adam preferisce il rosso e Eve e Juliet, invece, entrambi preferiscono il colore blu. Ok, quindi un dizionario contiene tre informazioni. Quali sono le chiavi, cioè i punti di partenza, quali sono i valori possibili, in questo caso sono i colori, e chi è collegato a chi, cioè qual è la relazione tra queste chiavi e questi valori. Chiavi e valori sono due realtà che non sono per nulla simmetrica, anzi sono fortemente asimmetrica, nel senso che il dizionario mi fornisce un mapping, un'associazione, da chiave a valore e non al contrario. E infatti c'è un vincolo che ogni chiave nel dizionario debba avere uno e un solo valore associato. Ogni chiave per poter esistere deve essere associata a un valore e ogni chiave può essere associata a un valore solo. Questo, se vogliamo, si dice anche dicendo che le chiavi devono essere univoche, non è possibile avere due volte la stessa chiave tra l'insieme delle chiavi. Allora, questo fa sì che le chiavi siano veramente un insieme, nel senso di set che abbiamo visto lunedì, costituiscono un set. Un insieme di valori univoci e il dizionario in più a questi elementi del set aggiunge per ciascuno di questi il collegamento a un valore. Qui si vede che nell'esempio ci sono quattro chiavi e ciascuna di queste è associata a un valore, non a due e non a zero, quindi non può essere lasciata, non associata a nulla. Se provassi a guardare dall'altro lato invece vedo che ad esempio questo valore, il blu, è risultato dell'associazione di due chiavi. Quindi sia Yves che Juliet preferiscono il colore blu e quindi è possibile che i valori siano condivisi tra più chiavi. Questo non è un problema, no? Per questo bisogna fare attenzione che c'è questa forte asimmetria tra cosa fanno le chiavi, cosa sono le chiavi e cosa fanno i valori. La chiave è associata a un valore unico, un valore può essere, non dico può essere associato perché l'associazione inversa non ce l'abbiamo, ma può derivare dall'associazione a più chiavi diverse se capita. Dal punto di vista del codice Python la sintassi è in qualche modo un'estensione della sintassi che conosciamo già per gli insiemi. Abbiamo detto che alla fine le chiavi sono da trattare come un insieme, come un set, ecco creare un dizionario significa definire, e qui ho le graffe che si usano per il set ma anche per i dizionari, definire l'insieme delle chiavi e per ciascuno di queste col due punti indicare il valore corrispondente. Quindi creare un dizionario significa tra parentesi graffe indicare una sequenza di coppie chiave valore, chiave due punti valore, virgola, chiave, altra chiave, due punti, altro valore, virgola e così via. Questa è la struttura sintattica della descrizione in Python di un dizionario. In questo caso è descritto lo stesso dizionario che c'è nella figura a fianco dove al posto dei colori, ovviamente qui non posso mettere i quadratini colorati, mettono delle stringhe che rappresentano il colore stesso. Ok, quindi dal punto di vista sintattico non è nulla di particolare, è sempre chiave, due punti, valore. Ricordiamoci questa musicalità, chiave, valore, le frasi sono sempre dette così. Le chiavi, dicevo, sono, devono essere, il Python deve essere in grado di verificare che le chiavi siano univoche e quindi di fatto internamente le memorizza come un set, come un insieme e quindi a sua volta ci saranno dei vincoli su che cosa posso usare come chiave di un dizionario. Quindi la stessa slide che abbiamo visto lunedì che ci raccontava quali tipi di dati potessimo usare come elementi di un insieme, ecco questi sono gli stessi tipi di dati che potremmo scegliere di usare come chiave di un dizionario, non altre cose. Quindi la chiave di un dizionario può essere una stringa, può essere un numero, a volte può essere una tupla e basta, essenzialmente. Non posso usare una lista o un'altra struttura di dati più complessa come chiave di un dizionario, proprio perché queste chiavi abbiamo detto vivono in un insieme. Mentre invece per quanto riguarda i valori associati alle chiavi non ho nessun limite, posso metterci dentro ciò che voglio, un po' come dentro una lista in cui gli indici sono bloccati, 0, 1, 2, 3, ma i valori sono qualsiasi, posso metterci dentro qualsiasi cosa, anche strutture dati a loro volta complesse. Quindi il campo valore non ha nessuna limitazione, può contenere qualsiasi tipo di cosa, dati semplici, dati complessi, mutabili, immutabili, a piacere. Mentre invece il campo chiave ovviamente è limitato al tip di dati immutabili, semplici, quelli che già conosciamo. Questa slide ci fa solo vedere la piccola differenza di sintassi, piccola ma significativa tra insiemi e dizionari, li riconosciamo subito perché un insieme elenca una serie di valori e un dizionario invece elenca una serie di coppie, di coppie chiave valore, chiave valore, chiave valore, con due punti in mezzo. Quei due punti lì ci fa capire che quello non è un insieme ma è qualcosa di più complesso, in questo caso è un dizionario. Già la volta scorsa avevamo detto che non si poteva creare un insieme vuoto con le parenti di graffe vuote, ma bisognava usare la funzione set e qui adesso vediamo il perché, perché le parenti di graffe vuote sono riservate a creare un dizionario vuoto. Allora se c'è almeno un elemento distingo facilmente un insieme da un dizionario per il fatto che c'è due punti e c'è una coppia di valori. Quando non c'è nulla dentro i progettivi del linguaggio hanno deciso, vabbè, diciamo che questo è un dizionario vuoto anziché un insieme vuoto. Vabbè, è una scelta, basta ricordarci. Quindi, un'idea potrebbe essere di usare questo dizionario per ricordarci delle informazioni relative ad alcuni dati. Ad esempio, gli esempi che ci sono qua sulle slide fanno riferimento a una sorta di rubrica telefonica in cui ho una serie di nomi, che in questo caso sono stringhe, e a ciascun nome associo un numero che potrebbe essere un numero telefonico. e dovrebbe succedere che in una rubrica i nomi siano tutti diversi. Poi in realtà non è vero, in una rubrica del nostro telefono a volte ci sono più utenti che abbiamo memorizzato con lo stesso nome. Questo ci fa capire che nella rubrica del nostro telefono il nome non è la chiave, perché non è univoco. Ci deve essere qualche cos'altro che distingue i vari elementi che abbiamo registrato. Ma in questo esempio semplice supponiamo di avere una rubrica in cui memorizziamo nomi di persone e questi nomi saranno unici e univoci, tutti diversi tra di loro. Sono nomi sotto forma di stringa, e quindi stringa è un tipo di dato che si può usare come chiave. Il valore, in questo caso, abbiamo messo il numero a caso per far finta che sia il numero di telefono. Questo potrebbe essere un'istantanea, uno snapshot del contenuto di questo dizionario chiamato contacts in un certo momento. Che operazioni, adesso qua conosciamo una struttura di dati nuova e quindi dobbiamo fare la solita carrellata delle operazioni che si possono fare. Che cose ci possono fare? Allora, posso creare un dizionario dal nulla, quindi lo creo vuoto con queste due forme, quindi sempre la funzione dict, così come la funzione list crea list, la funzione set crea insieme, la funzione tuple crea tuple, la funzione dict crea dizionari. Oppure la sintassi che è abbreviata con le parentesi graffe. In questo caso creo un dizionario vuoto dal nulla. Oppure posso creare un dizionario a partire da un dizionario esistente, di fatto creando una copia, un duplicato di un dizionario esistente. Quindi anche qua, visto che questo è un contenitore mutabile, così come lo sono i set, così come lo sono le liste, devo sempre fare attenzione quando creo una copia, se sto facendo semplicemente un alias, quindi un nuovo riferimento alla stessa struttura dati, oppure una copia vera e propria. E in questo caso, come già succedeva con altre strutture dati, se applico la funzione dict, sto creando un nuovo dizionario, copiandoci dentro i valori che già c'erano nel dizionario precedente. Mentre invece se volessi fare un alias, quindi un altro riferimento di un dizionario esistente, usiamo l'uguale, come al solito. Così non creo un nuovo dizionario con context2 uguale a context, ma sì, creo una nuova variabile, un nuovo nome, per fare riferimento al stesso dizionario. Ma questo segue la regola generale, quindi non ci dovrebbe stupire in modo particolare. Poi come faccio, una volta che un dizionario l'ho creato, a leggere i valori che ci sono al suo interno? Allora, per accedere ai valori contenuti in un dizionario, accedere ai valori, ho detto, solamente la parte di destra quindi, ci posso accedere solo conoscendo la chiave a cui questi valori sono associati. Quindi c'è un dizionario, gli do la chiave e lui restituisce il valore. L'operazione inversa non è possibile. Gli do una chiave e se questa chiave esiste, la frase giusta dovrebbe essere questa, se questa chiave esiste nel dizionario, allora il dizionario restituisce il valore corrispondente alla chiave stessa. Questo come si scrive? Semplicemente con le parentesi quadre. Quindi una sintassi molto simile a quella che usiamo per le liste. Con una differenza, se io creo una lista, le parentesi quadre devono contenere un valore numerico, un indice valido tra 0 e la lunghezza meno 1. Se ho un dizionario, le parentesi quadre conterranno una chiave, una variabile o una costante il cui valore sia una delle chiavi del dizionario. Quindi in questo modo, ad esempio, abbiamo un dizionario le cui chiavi sono delle stringhe e quindi tra parentesi quadre ci metteremo la stringa corrispondente a una delle chiavi. E quindi si accede non per indice ma per chiave ai valori. Quindi alla fine il dizionario memorizza valori. Cioè ciò che ci interessa sono i valori della parte destra. Per accedere ai valori, ciascuno di questi dovrà avere una chiave d'accesso che mi permette di arrivarci. Io qua, nell'esempio, ho messo una costante di tipo stringa, quindi con le virgolette, ma normalmente sarà una variabile s che assume vari valori, che ho letto da tastiera, ho letto da un file, eccetera, e tra parentesi, quindi metterò una variabile il cui valore di questa variabile sia una delle chiavi del dizionario e quindi il dizionario mi restituisce il valore memorizzato associato dentro l'elemento. Questo funziona, dicevo, se la chiave esiste. Se una chiave non esiste nel dizionario, il dizionario si arrabbia e mi genera un errore che è un key error, errore nella chiave, analogo all'errore che mi dava una lista quando cercavo di accedere con un indice non esistente. Però si chiama diversamente. Key error, l'altro si chiamava, se non sbaglio, index error, se non sbaglio. Le chiavi costituiscono un insieme, un insieme quindi di per sé non è ordinato e anche gli elementi di un dizionario non li possiamo considerare ordinati. Non possiamo dire dammi il primo, il secondo, il terzo elemento di un dizionario. Vedremo che quando andiamo a iterare su un dizionario una regola c'è, a differenza degli insiemi. Però concettualmente non c'è l'ultimo elemento, c'è l'elemento con un certo valore di chiave. Poi le chiavi a loro volta possono essere ordinabili perché magari sono stringhe, sono numeri, posso prendere la prima, l'ultima in ordine di valore. Ma non è l'ordinamento degli elementi nel dizionario, bensì semplicemente delle chiavi. Quindi non potrò avere la scelta di dire, di accedere per indice, per 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, ma dovrò sempre conoscere le chiavi. Ovviamente avrò modo di chiedere al dizionario non solamente dammi un valore se conosco la chiave, ma anche di farmi dire al dizionario dimmi quali sono le tue chiavi, perché altrimenti non riuscirò ad accedere normalmente a nulla. Poiché però per accedere devo conoscere una chiave valida e se per caso provassi a fare accesso con una chiave non valida mi genero eccezione, è buona norma quando cerco di fare accesso a un dizionario, quindi leggere un valore, controllare prima se la chiave esiste. Ok? Se c'è questa chiave. E allora l'operatore in fa questo lavoro. In, in l'abbiamo già usato con tutte le altre strutture dati, verifica se un valore è contenuto nel contenitore. Nel caso di un dizionario, in lavora sulle chiavi. Ok? E non sui valori. Purtroppo dobbiamo chiederci tutti i vari operatori, visto che un dizionario contiene due gruppi di valori, chiavi, scusate, se la parola valori purtroppo ha troppi significati, due gruppi di cose, alcuni sono chiavi e altri sono valori. E quindi alcuni degli operatori lavorano, tipo la parentesi quadra, mi istituisce un valore, prese una chiave. In ricerca, una variabile all'interno delle chiavi e non dei valori, quindi non va a vedere se ci sono valori. Però quello che ci serve effettivamente, se John, questa stringa, è una delle chiavi di questo dizionario, allora potrò tranquillamente fare accesso al dizionario usando John come chiave. Se invece John non fosse dentro il dizionario, e se mai provassi a fare questa operazione qua, otterrei un errore, un key error. Allora in questo caso preferisco non farla. Quindi in qualche modo faccio questa operazione di accesso solo dopo aver verificato che la chiave sia effettivamente presente nel dizionario. Se ho dubbio, dovrei sempre controllare. O con una if precedente, if in, e in lavoro nel set delle chiavi oppure, come abbiamo visto brevemente la volta scorsa, la settimana scorsa, anche con un try accept, andando a catturare la key error che eventualmente si dovesse verificare. quindi la faccio dopo anziché prima. Vabbè, questa è in realtà la stessa cosa. Visto che è molto frequente questo lavoro, tipo accedo a un valore ma voglio essere sicuro che ci sia, il dizionario ha anche un metodo che si chiama GET, che fa già questo controllo per me. E quindi è una sorta di accesso per chiave, diciamo, protetto, tranquillo. Ha due parametri la funzione GET, la chiave è un valore di default. Quindi lui cerca di fare accesso al dizionario con quella chiave. Se c'è quella chiave mi restituisce il valore memorizzazione del dizionario come fanno le parentesi quadre. Se per caso la chiave non c'è, anziché dargli un errore, semplicemente mi restituisce il valore di default che ho specificato come secondo parametro. E questo mi evita di fare una if apposta. Quindi se cerco il numero di telefono di toni che non c'è, anziché darmi un errore, mi dirà il numero di telefono mancante, oppure non memorizzato, non conosciuto o altro. Se invece c'è, allora mi istituisce il numero effettivo. Quindi se vi trovate a scrivere queste istruzioni qua, if in, allora accedi, magari pensate se potete semplificarvi la vita usando il metodo get che non dà mai eccezione. Chiaramente deve aver senso restituire un valore di default, perché lo vedremo negli esempi, quando ha senso farlo, ad esempio. Ok, questo, quindi fin qui sappiamo creare un dizionario e accedere a un elemento conoscendo la chiave. Se io voglio modificare un elemento, allora modificare un dizionario si può fare in due modi, o aggiungendo nuovi elementi, oppure modificando elementi esistenti. Aggiungere nuovi elementi significa aggiungere una chiave nuova, che non c'era ancora, e ovviamente un valore corrispondente. Modificare un elemento esistente significa selezionare una delle chiavi esistenti e modificare il valore associato a questa chiave. Dal punto di vista della sintassi, in Python si scrivono nello stesso modo. Dizionario tra parenti di chiave uguale valore. Poi il dizionario, guarda, questa chiave ce l'ho già? Se sì, va bene, non creo una chiave nuova, perché tanti duplicati non li vorrei, ma cambio il valore associato. Se invece questa chiave non ce l'ho, semplicemente l'aggiungo. Aggiungo una nuova chiave con questo valore che mi è stato specificato. Quindi sembrano un po' alle liste, sia per accedere ai valori, sia per modificare i valori. Perché c'è sempre questa parentesi quadra dove l'indice, tra virgolette, non è più un indice numerico bloccato da 0 a lunghezza meno 1, ma è qualunque stringa stringa o anche numero, per carità, ma non deve essere necessariamente sequenziale. Anzi, di più, perché un'operazione come questa con una string, con una lista, non la posso fare. In una lista non è possibile mai aggiungere elementi dando degli indici che non esistono ancora. Infatti dovevamo usare append per creare nuovi elementi. Mentre invece in un dizionario non c'è append ma perché non c'è un ordine e invece semplicemente posso usare degli indici, chiamiamoli pure così, sono delle chiavi non esistenti e questi creeranno semplicemente nuovi valori. Quindi sono abbastanza più usnelli da utilizzare. Quindi per crearci la nuova struttura dati tipicamente leggiamo dei dati da un file noi partiremo da un dizionario vuoto e poi semplicemente assegneremo dei valori nuovi a delle chiavi che non ci sono ancora. Inizialmente il dizionario vuoto quindi la tipica operazione che con le liste facevamo con una serie di append o che con gli insiemi facevamo con una serie di add qui facciamo semplicemente con una serie di uguale di assegnazioni in cui in ogni riga vedete che specifichiamo la nuova chiave il nuovo valore. Ovviamente avrò anche qua la funzione len che mi dice quanti elementi ci sono quante chiavi ci sono nel dizionario. Per cancellare per cancellare elementi quindi non solo modificare il valore ma proprio buttare via una chiave posso usare pop pop come sulle liste ricordiamo che pop cancellava un elemento da una lista spostava tutti gli altri in una posizione e l'argomento di pop era l'indice della posizione che volevamo cancellare a differenza di remove invece che quindi andava a cercare un valore da cancellare. Anche qua pop è un metodo di dizionario che può cancellare un valore dato a una chiave dato l'indice quindi chiave è un nome un pochino più ricco rispetto a indice l'indice è solo un numero ma una chiave può essere qualunque cosa e quindi eliminando eliminando una chiave ovviamente il valore corrispondente ce lo dimentichiamo cioè siamo persi quindi viene in qualche modo cancellato anche il valore tanto l'unico modo per raggiungere quel valore era attraverso quella chiave noi abbiamo cancellato la chiave e quel valore a meno che non ci siano anche o non ci fossero degli alias che puntavano lo stesso valore quel valore li diventa scompare viene cancellato anche esso questo perché non è possibile mai avere un valore senza chiave o una chiave senza valore dentro il dizionario come già sulle list il metodo pop restituisce anche il valore quindi è vero che il valore viene dimenticato ma come ultima chance viene restituito la funzione pop quindi se vogliamo lo possiamo salvare in qualche variabile da qualche parte ovviamente anche pop deve lavorare con chiave esistenti se non il solito key error è sempre dietro all'angolo pronto a scattare ok allora io so inserire un elemento cancellarlo modificarlo uno per volta accedere a un elemento in lettura e quello che mi manca ancora come operazione fondamentale è poter elencare scattare i valori quindi scandire ciclare sul contenuto di un dizionario lo posso fare ad esempio con ciclo for in dove anche qua l'operatore in lavora sulle chiavi come già prima l'avevamo visto su un if in verifichiamo se è una chiave presente in dizionario il for in mi itera sulle chiavi del dizionario quindi qua dobbiamo fare attenzione contacts è una struttura dati che contiene sia chiavi che valori ma quando faccio un'iterazione con un for la variabile di controllo dell'iterazione conterrà solamente le chiavi l'ha fatto così ok è come è come se facessi for key in le chiavi di contacts non i valori allora qui in questo caso print di key mi stampa le chiavi mi interessa anche il valore e vabbè scriverò contacts di key dentro dentro il ciclo quindi mi da le varie chiavi e poi per ogni chiave dovrò se mi serve anzi probabilmente mi serve estrarre il valore indicizzando il dizionario ecco a differenza questo è l'unico caso particolare a differenza degli insiemi è garantito che questo ciclo for mi restituisca le chiavi in ordine di inserimento abbiamo visto lunedì che se io provo a iterare su un insieme mi restituisce i valori dell'insieme in ordine che piace a lui non prevedibile ma invece in un dizionario c'è questa garanzia in più che l'iterazione sulle chiavi o sugli elementi del dizionario viene sempre fatta in ordine di creazione quindi mi darà per primo l'elemento che ci ho messo dentro prima e per ultimo l'elemento che ho inserito per ultimo dimmi la chiave che ho inserito per ultimo quindi se io modifico un elemento fa fede diciamo il distante di tempo in cui l'ho inserito per primo non in cui l'ho modificato per ultimo dimmi no ma c'è un altro i numeri non funzionano ma c'è un altro metodo che si chiama items che vediamo nella slide successiva tra l'altro questa proprietà è un po' strana dei dizionari quella di mantenere l'ordine perché è un po' esola un po' dalla pulizia mentale che dice che le chiavi sono insieme infatti è stata introdotta solamente nelle versioni recenti di python perché c'erano tanti programmatori che non capivano come funzionassero insieme e quindi frignavano e allora hanno modificato l'interprete python per dare questa garanzia in più allora l'interazione semplice è quella in ordine di inserimento se io invece volessi iterare ad esempio in ordine di valore in ordine alfabetico in ordine numerico delle chiavi sempre delle chiavi ma i valori allora potrei ad esempio usare la funzione sorted che prende un dizionario in realtà sorted quando vede un dizionario cosa fa? butta via i valori e ordina le chiavi e mi dà una lista ordinata delle chiavi presenti nel dizionario le chiavi no chiamo così sono il il valore il l'informazione privilegiata di un dizionario il valore se lo portano appresso e poi andiamo a leggerlo ma poi il programmatore sa cosa fare ma tutte le funzioni che lavorano sull'insieme lavorano prioritariamente sulle chiavi quindi in questo caso stamperebbero le stesse cose prendendo però i nomi in ordine in questo caso alfabetico anziché in ordine di l'inserimento e come vedete quando qui stampa non solamente la chiave ma anche il numero e ovviamente per quella determinata chiave farò un accesso al dizionario quindi ho una sorta di for sugli indici che qua sono chiavi e quando mi serve il valore vi accedo direttamente come ultimo passo anche per rispondere a lui se io volessi se avessi bisogno all'interno della stessa interazione sia della chiave che del valore lo posso fare accedendo ovviamente come abbiamo fatto con la chiave ma se no c'è un metodo per far sì che l'interazione mi dia già ad ogni interazione già direttamente entrambe le cose chiave e valore enumerate che usavamo sulle list che possiamo usare sulle tuple non funziona perché non c'è un unice numerico e invece c'è un metodo che si chiama items è un metodo del dizionario contact.items dato un dizionario mi restituisce una lista di tuple di due elementi e in ciascuna lista ci sarà una coppia nome virgola valore del primo elemento nome virgola valore del secondo elemento eccetera eccetera in ordine di inserimento quindi proviamo a vederlo perché questo è un pochino più astratto degli altri come concetto se noi abbiamo avessimo un dizionario diamo pure il nome contacts in cui John ha il numero 3232 scusate ci vogliono due punti qua che ne so en mettiamola anche solo due abbia il numero 12345 con queste sintassi ho creato questo oggetto dizionario in debugger mi fa vedere che usa dict come tipo di dato e questo e questo dizionario è fatto di vari mapping dove la chiave John corrisponde a questo intero la chiave n corrisponde a questo intero e così via la lunghezza del dizionario è due se io voglio posso il metodo items usare il metodo items contacts magari e vedete che mi restituisce un oggetto strano che si chiama dict items ma alla fine fa vedere che questo oggetto cosa contiene contiene una lista parentesi quadre di due cosa due tuple parentesi tonde ciascuna delle quali contiene nel primo elemento la chiave nel secondo elemento della tupla il valore virgola seconda tupla sarà la seconda chiave virgola secondo valore quindi ho appiattito in un certo senso sequenzializzato un dizionario che conteneva questo insieme di chiavi e l'insieme me lo visualizzo disordinato nello spazio in una struttura lineare in cui le chiavi sono una dietro l'altra e appaiate tupla per tupla con i valori corrispondenti e cosa mi serve una lista di questo genere ma posso iterarci sopra e ogni iterazione avrò sia la chiave che il valore dell'elemento corrispondente e quindi tipicamente farò iterazioni di questo genere dato un dizionario items mi faccio appiattire il dizionario in una lista di tuple ad ogni iterazione da queste tuple estraggo la chiave il valore e posso usarle poi dentro il ciclo questa nozione qua questa scrittura qua key value perché la tupla la posso memorizzare nei due componenti di questa tupla se io invece usassi una variabile semplice questa sarebbe una variabile vedete che sempre in context.item sia qua che qua a ogni iterazione ottengo un item che è la tupla e quindi la chiave la troverei nella posizione 0 della tupla il valore lo troverei nella posizione 1 della tupla che funziona ma se quello di destra che è esattamente equivalente è un pochino più chiaro da leggere perché 0 1 cosa sai ecco questa roba qua sono il chiave e il valore perché sono in due posizioni tra l'altro se vogliamo possiamo chiederci ma allora scusa tutta questa cosa qua di dizionari perché me la racconti noi le sapevamo già fare queste cose mappare chiavi su valori facciamo una lista di tuple e sapevamo già fare tre settimane fa le liste di tuple perché abbiamo bisogno di una struttura dati in più che è il dizionario se poi alla fine i dati che rappresenta li posso anche vedere così e beh per due motivi di integrità e di prestazione integrità nel senso che con una lista io ho nessun modo per controllare che non ci siano delle chiavi duplicate se aggiungessi un altro elemento a una lista di nuovo una tupla con cui primo elemento sia di nuovo John me la mette la lista non sta a guardare cosa li metto dentro il dizionario mi da questo controllo in più la chiave è un valore univoco di accesso non posso crearne due uguali e ci sono molte condizioni in cui questo è vero ciascuno di voi ma anche di noi ha un numero di matricola che è diverso da quello di tutti gli altri per definizione e quindi va poi memorizzato come un campo che deve essere diverso non ci siano possibilità neanche per errori di programmatori che questo numero venga condiviso tra più persone e poi c'è accennavo l'altro motivo forse anche più forte di prestazioni cioè il dizionario è una struttura dati che è ottimizzata per l'accesso tramite chiave cioè accedere tramite una chiave un elemento è un valore del dizionario è un'operazione istantanea velocissima per questo motivo per cui lo era un set mentre invece una lista è una struttura dati ottimizzata per una elaborazione sequenziale un elemento dopo l'altro dopo l'altro dopo l'altro allora la semplice operazione di sapere se una chiave c'è o non c'è se esiste o non esiste se io la memorizzassi come lista dovrei andarmi a leggere tutti gli elementi dal primo all'ultimo e controllare se questo valore c'è o no invece in un dizionario vado semplicemente a chiedere al set che contiene le chiavi questo elemento c'è o no e che è l'operazione per cui i set sono nati che grazie al meccanismo di esching interno avviene in un tempo praticamente istantaneo indipendente dalla dimensione del set o della lista o del dizionario sono operazioni che avvengono in tempo costante mentre invece ricercare un elemento in una lista trovare dov'è richiede un tempo proporzionale alla lunghezza della lista quindi a seconda diciamo così degli algoritmi che dobbiamo implementare se ci troviamo a dover accedere più volte a un valore conoscendo una chiave rappresentativa di quel valore il dizionario è la struttura dati che preferiamo anche perché appunto è specializzata per quel caso per quel caso d'uso se invece abbiamo dei valori sequenziali o dei grossi valori in cui magari non sappiamo all'inizio come dovrò ricercarli oppure il criterio per cui dovrò ricercarlo può ammettere dei duplicati dei valori multipli e vabbè allora li andrò a sbordolare in una lista ma vedremo poi la settimana prossima che in realtà questi due concetti di lista e di dizionario si combinano tra di loro infatti una struttura dati che useremo molto sarà proprio la lista di dizionari per cercare di ottenere il meglio di entrambi ok qui ci sono alcune videate dove fanno vedere se vogliamo visivamente la differenza tra il dizionario e gli items del dizionario che a sua volta è una lista di tuple tupla 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 mentre un dizionario è un'unità unica dove i due valori sono sempre strettamente accoppiati ok queste sono le operazioni base dicevamo sul dizionario non abbiamo visto questa l'ultima values che è un metodo che restituisce i valori del dizionario i valori presenti nel dizionario non gli insieme dei valori ma una sequenza quindi una lista di valori i values non possono essere messi in un insieme perché posso avere qualunque cosa come value e quindi non è non è detto che sia un valore immutabile e memorizzabile in un insieme e quindi mi restituisce una lista se io lo facessi con il mio esempio contax punto values vedete che mi restituisce una lista di due elementi non mi ricordo se ci sia anche keys sì esiste anche keys lì non c'era nella slide che invece mi restituisce la lista delle chiavi del dizionario quindi se io da un dizionario volessi avere dammi tutte le chiavi chiamo il metodo keys dammi tutti i valori chiamo il metodo values ma attenzione che poi a questo punto li ho separati dalla chiave del valore mi sono perso l'associazione tra una chiave e il valore corrispondente se non andando poi a leggere queste due liste in parallelo usando lo stesso indice oppure items che mi dà sempre una lista ma di tuple dove gli elementi chiave e valore sono agganciati insieme quindi con questi tre io posso andare a estrarre non un singolo valore dal dizionario ma direttamente il gruppo delle chiavi il gruppo dei valori o il gruppo di tutte le associazioni direi che non c'è molto altro quindi queste sono le operazioni di base vi accennavo prima che con queste operazioni di base la struttura dati si può usare in due modi anche molto diversi uno lo chiameremo dizionari come array associativi che è in modo più diretto più semplice e più tardi invece parleremo di dizionari come contenitori recordizzati è sempre un dizionario ma lo uso in modo diverso praticamente concepisco in modo diverso le chiavi il ruolo delle chiavi allora il il modo più semplice di usare un dizionario è quello è quello di pensarlo come una estensione dell'array array è un termine che in python non si usa in molte altre linguaggi di programmazione l'array è una matrice di valori che in python si usa normalmente implementare con una lista e tendenzialmente una matrice un array è indicizzata per numeri interi di indice quando noi parliamo di array associativi stiamo estendendo questo concetto dicendo che l'indice non è obbligato a essere un numero consecutivo da 0 n meno 1 ma può essere un qualunque valore e lo chiamiamo indice o lo chiamiamo chiave a seconda di come ci svegliamo al mattino quindi a questo punto l'indice non è più semplicemente la posizione ma è un valore che usiamo per identificare in modo univoco un certo dato in cui ci sia un valore chiave univoco facilmente identificabile facilmente irreperibile nel tipo di dati che devo memorizzare quindi le chiavi sono i valori su cui dei valori su cui il programma lavora le chiavi saranno dei valori che sono su un file e lui si deve leggere e deve mettere in relazione con qualcos'altro quando io uso questa frase la dico adesso la capiamo dopo quando parliamo dell'altro modo di usare i dizionari quando io uso un dizionario io come programmatore uno dizionario come re associativo normalmente quando programmo non conosco quali sono le chiavi le leggerò dal file leggerò dall'input dell'utente quando creo un programma che lavori come una rubrica non so quali sono i nomi dei miei amici lo leggerò il programma lo scoprirà ok? quindi il programma lavora con delle chiavi i cui valori non sono noti a tempo di programmazione ma li scoprirò quando leggerò i dati sembra ovvio che sia così ma in realtà non è così quando lo usiamo in un altro modo ad esempio possiamo usare un dizionario per contare la frequenza di parole ricordate l'esercizio la volta scorsa in cui avevamo determinato in una filastrocca quante parole diverse ci fossero ok? sappiamo che c'erano 57 parole diverse ma non sono tutte equipresenti equiprobabili ci sono alcune parole che compariranno una volta sola e altre parole compariranno più volte allora se volessimo sapere una statistica un istogramma di quante volte compare ciascuna parola ebbè potremmo creare un dizionario la cui chiave sia la parola e il cui valore sia il numero di volte che l'ho vista e quindi ogni volta che trovo una parola nuova cos'è? ho giusto pagina da solo ogni volta che trovo una parola nuova semplicemente andrò a sostituire per quella chiave cioè quella parola sostituire il valore che sta sulla destra con un valore aggiornato questo uguale qua sta proprio dicendo questo ho visto una parola? vai a vedere il count il valore associato 2 di questa parola incrementalo di 1 e vedo che qua la chiave che ho usato nome e nome è la stessa vai ad associare a questa stessa chiave un valore nuovo diverso che a questo punto magari sarà 3 vediamolo proviamo a modificare il nostro esempio delle parole uniche in un contaparole uniche questo esempio di lunedì adesso lo ripuliamo un po' da queste cose dove la chiave di tutto l'algoritmo che lavorava sull'insieme mi era questa istruzione qua vedo una parola le aggiungo vedo delle parole le aggiungo al mio insieme adesso non ci basta più lasciamolo pure questo non andiamo a cancellare il set delle parole uniche ma vogliamo anche conoscere la frequenza in cui queste parole compaiono compaiono allora lo posso non mi basta più un set il set mi dice se una parola c'è o non c'è per sapere quante volte c'è io posso creare un nuovo dizionario ad esempio frequenza parole come dizionario e quindi qua quando ho una riga anzi le parole parole era ricordiamoci la lista delle parole di una determinata riga come lista non ci faccio nulla devo andare a prendere una per una quindi for parola in parole io ho trovato una parola su una determinata riga Mary la parola è Mary allora vuol dire che ho visto Mary per la prima volta oppure ho visto Mary per una volta in più rispetto a quante ne avevo visto finora ne avessi viste finora ho questi due casi da gestire se Mary l'ho già vista tre volte allora dovrò aggiornare quel tre e farlo diventare un quattro se Mary non l'ho ancora vista allora praticamente sarebbe zero il numero di volte che l'ho vista ma non c'è ancora Mary due punti zero nel dizionario la devo creare assegnando il valore uno quindi se la parola che ho incontrato è già tra le chiavi del dizionario in cui registro le frequenze delle parole c'è già allora di questa parola aumento di uno la frequenza incremento la frequenza frequenza parole di questa parola uguale frequenza più uno e come fa a esserti già se c'è già è perché l'avevo messa in precedenza e la prima volta quando la incontro per la prima volta non c'era ancora la devo creare quindi nell'altro caso è la prima volta che incontro la parola la creerò dicendo t'ho vista una volta quindi devo inizializzare il valore a uno qualche modo è sottinteso il fatto che se quella parola non c'è vuol dire che l'ho vista zero volte ma questi zero non li rappresento perché non potrei sapere a priori quali parole non ho ancora visto e che ne sono ancora letto il file come faccio a sapere quali parole conterrà quindi non metto nessuna non inserizzo nulla a zero quando trovo qualche cosa lo aggiungo questo dizionario e via cresce e andiamo a vedere queste frequenze le parole possiamo fare un print del dizionario e vediamo cosa esce ok quindi questo è queste quattro righe implementano praticamente una batteria di contatori ciascuno legato a una specifica parola una specifica chiave ciascuna chiave ha il suo contatore che parte da uno e va avanti ogni volta che vede un nuovo valore di quella chiave lì il resto del codice quindi queste righe e queste qua servono per darmi una per volta le varie parole di cui ho bisogno per iterare sul file spezzarlo analizzarlo allora se funziona alla fine mi stamperà beh qui mi stampa il dizionario brutale perché non ho fatto nessuna formattazione decente ho semplicemente stampato la variabile meri 2.1 add l2 ecco qui riconosciamo che gli elementi all'interno del dizionario mantengono l'ordine di inserimento perché le prime elementi corrispondono proprio alle prime parole qui c'è qualcosa che non va però c'è? Isra Postudin grazie allora mi stavo rendendo conto che qualcosa non andava perché ad esempio meri c'è di sicuro più volte e non una lemb c'è di sicuro più volte e non una e qua invece mi dava uno facendo il ragionamento all'inverso loro sono stati più veloci di me facendo il ragionamento all'inverso vuol dire che il mio codice passava sempre da qui e mai dall'altra e perché ho scritto male questo ho scritto is al posto di in is alla fine è una forma di uguaglianza si chiede se un oggetto è identico a un altro non sarà mai identico una parola a un dizionario una stringa a un dizionario e quindi era sempre falso con l'in magari funziona giusto infatti l'ordine delle parole è lo stesso perché è l'ordine con cui compare per la prima volta ma il valore è stato aggiornato col numero di occorrenze reali così è brutto da vedere se volessimo stamparlo vabbè potremmo stampare i vari elementi iterando sugli item no? ad esempio uno potrebbe scrivere for parola frequenza in frequenza parole print siamo sulla stessa riga la parola magari lasciamo 15 caratteri spazio la frequenza cosa ha fatto ah punto item scusate dimenticato ero partito da voler fare item sono dimenticato quindi verrebbe fuori una tabella di questo genere anziché stampare il dizionario grezzo itero sugli item del dizionario e quindi usando items ottengo delle coppie delle tuple di due elementi ed ogni iterazione il primo elemento della tupla è la chiave in questo caso la parola il secondo elemento della tupla è la frequenza e quindi le posso stampare salteranno fuori in ordine di nuovo di inserimento ovviamente l'ordine che mi dà l'items è lo stesso ordine con cui sono gli elementi nel nel dizionario se volessi potrei ordinarle per chiave basta mettere un sorted qua davanti questo sorted cerca di ordinare la lista di tuple ordinare la lista di tuple va a controllare per prima di tutto la primo elemento della tupla che è la chiave che essendo tutte diverse tra di loro non avrò mai problemi di duplicati e quindi ordina la lista di tuple per valori crescenti della chiave e quindi mi stampa queste varie cose non in ordine di inserimento in ordine di apparizione bensì in ordine alfabetico a noi servirebbe un ordinamento diverso che è quello magari per frequenza ma vi chiedo ancora di aspettare un po' per riuscire a spiegarvi come si fa a ottenerlo quindi possiamo stamparlo in ordine di apparizione o in ordine in questo caso alfabetico di chiave tra oggi e lunedì impareremo anche come stamparlo per ordine di frequenza quindi dando al sorte un criterio di comparazione che dipende dai valori e non dalle chiavi però ci porterebbe un po' lontani dal discorso di oggi quindi questo è un modo come dicevamo come dicevo prima le chiavi quando io scrivo questo programma non so quali saranno non so se questo programma legge la storia di Merida Pocorella oppure l'articolo di giornale di questa mattina le scopre e man mano va a popolare un dizionario che crescerà con le chiavi che incontra e associerà a ciascuna di queste chiavi un valore in questo caso è un valore molto semplice un numero il valore potrebbe essere la riga o le righe su cui compare quel valore l'esercizio che faremo la settimana prossima è l'indice analitico del libro alla fine di un libro avete l'indice analitico in cui per ogni parola vi dice in quali pagine viene trattato quell'argomento allora in questo caso non ti dice solo che è trattato in tre pagine diverse ma ti dice anche in quali pagine e quindi si può usare di nuovo un'estensione o una implementazione di tipo dizionario abbiamo fatto prima l'esempio delle matricole degli studenti questo è un altro chiaro esempio canonico di array associativo in cui gli indici sono numeri e per un millisecondo ci potremmo anche ingannare pensare che ma poiché sono numeri è come se fosse un array è come se fosse una lista ma no perché la lista non ha non abbiamo tutte le matricole che vanno da zero fino al 300.000 qualche cosa ne avremo solo alcune mentre in una lista gli indici sarebbero obbligati a partire da zero e non avere nessun buco in mezzo cioè ad ogni indice deve esserci un valore quindi un dizionario lo posso creare con indici interi tranquillamente si continua a comportarsi come dizionario l'abbiamo sempre visti finora come indici come chiave stringhe ma la chiave può anche essere un intero non è un problema in questo caso il valore invece è una stringa quindi è contrario quello che facevamo per le frequenze delle parole avevamo chiave stringhe e valore intero qui abbiamo chiave intera e valore stringa ci serviva questo oppure magari sempre nel database degli studenti separiamo il nome dal cognome da eventuali altri dati che ne so il corso di laurea il dato di nascita tutte queste belle cose che ci sono allora ad ogni matricola non facciamo corrispondere un dato una stringhetta ma facciamo corrispondere un contenitore che ne so una bella lista che contenga nei vari campi tutte le varie informazioni che ci servono associate con la matricola qui per farla breve ho messo il nome e il cognome separati come due stringhe dentro due posizioni diverse di una lista qui sfruttiamo il fatto che il valore di un dizionario può essere qualsiasi cosa per metterci dentro anche informazioni più strutturate ad esempio tornando al nostro esempio della filastrocca la lista delle pagine in cui compare quella parola delle righe del file in cui compare quella parola dov'è? allora fai usi le parentesi quadre tante volte quante ti servono vediamo se trovo quella matricina per scriverci sopra io ho studenti studenti rappresenta l'intero dizionario se voglio parlare di un singolo studente specificherò tra parentesi quadre la chiave quindi 211003 questo se la chiave esiste mi rappresenta il valore quindi indicizzare un dizionario con una chiave mi dà di fatto il riferimento a questo valore qui che è un valore di tipo lista se voglio prendere il cognome il cognome sarà nel secondo elemento di questa lista e quindi devo prendere il secondo elemento di questa lista ci aggiungo un altro paio di parentesi quadre e se voglio la lettera iniziale del cognome andrò a prendere la prima lettera queste tre parentesi quadre sempre parentesi quadre sono ma hanno un significato diverso la prima indicizza un dizionario la seconda indicizza una lista la terza indicizza una stringa dobbiamo sempre ricordarci e non ce lo dice python da solo da solo a che punto siamo cioè a questo punto qui alla sinistra di questa sbarra cos'è? questo è un dizionario questo è un valore di un dizionario questo è una stringa questo è un carattere a questo punto qui ad esempio studenti di quadre 2 1 1 0 0 3 so che è una lista ciò che sto leggendo e quindi qua ci posso applicare tutti i metodi delle liste in questo caso grazie alla domanda sua ci siamo focalizzati sull'indicizzazione però nessuno mi inviterebbe di fare append qua di qualche cosa cioè alla fine è una lista è questa lista qua se faccio un append ci aggiungerò un 3 qua in fondo poi ovviamente se preferite potete spezzare queste operazioni su più linee no? in cui dici il valore è uguale studenti di 2.211 e poi valori di 0 valori di 1 il nome e il cognome ma è solo per eventualmente leggibilità all'inizio ok? quindi queste operazioni si possono concatenare facciamo sempre attenzione che ogni volta che faccio un'operazione le operazioni che potrò fare dopo dipendono dal tipo di dato che ho ottenuto fino a quel punto lì grazie per la domanda possiamo anche giocare su chiavi più complesse ad esempio pensiamo di dover posizionare dei pezzi su una scacchiera allora io posso dire che in una determinata casella che ne so riga 1 colonna 3 c'è il pezzo re o la riga 2 colonna 2 c'è il pedone e la riga 8 nell'angolino 8 ce la torno quindi potrei avere un dizionario in cui le chiavi sono le posizioni delle caselle e le esprimo come tupla perché voglio separare la riga dalla colonna le tuple sono un dato immutabile e quindi sono indicizzabili come insieme e quindi sono utilizzabili come come indice e il valore è il pezzo che ci trova e quindi in qualche modo è sottinteso che tutte le caselle della scacchiera che non sono elencate qua saranno vuote un po' come prima nel conteggio delle parole tutte le parole che non comparivano come chiave non erano mai state viste il fatto di usare delle chiavi tupla mi permette di garantire che il mio programma non potrà mai rappresentare la condizione irrealistica che ci siano due pezzi diversi nella stessa casella perché se la casella è la chiave un valore solo può avere o poi dipende che cosa voglio fare perché io potrei anche rappresentare la stessa informazione con un dizionario completamente inverso potrei rappresentarlo con un dizionario che ha come chiave il nome del pezzo e come valore la posizione il pedone sta nella posizione 2-2 la torre sta nella posizione 8-8 la stessa informazione è rappresentata in un modo completamente diverso dove uso come chiave il nome del pezzo e come valore la tupla che rappresenta la posizione in questo caso ottimizzo la ricerca per pezzo dove è il re mentre nel primo caso nel primo dizionario se mi chiedono dove è il re io rispondo non lo so aspetta che vado a vedere uno per uno tutti i valori quindi mi scandisco tutto il dizionario nel secondo caso dove è il re ve lo dici subito perché la faccio accesso per chiave nel secondo caso se mi chiedessero cosa c'è nella casella 1-1 dico non lo so fammi andare a guardare tutte le posizioni mentre sopra se mi chiedessero cosa c'è nella casella 1-1 io rispondo niente perché non è tra l'insieme delle chiavi dipende da che cosa dovrò fare l'informazione qua è la stessa a seconda del tipo di algoritmo che devo usare se devo accedere alle posizioni per conoscere i pezzi o accedere ai pezzi per conoscere le posizioni è più comodo più conveniente un approccio più professionale mentre il dizionario di sopra quello che è già stampato sulla slide ho la garanzia di non poter mai mettere due pezzi nella stessa casella in quello di sotto ho la garanzia che lo stesso pezzo non può comparire in più caselle diverse perché in quello di sopra non ci sarebbe nulla che mi vieterebbe di scrivere 1-1 torre una casella nuova che non c'è ma un pezzo che in realtà ho già usato il dizionario non mi protegge dai duplicati di valori mi protegge dai duplicati di chiavi cosa è meglio ma non esiste in uno senso la domanda cosa è meglio dipende da cosa ci devo fare sono modi diversi di rappresentare la stessa informazione che sfruttano la versatilità dei dizionari non è neanche escludo che in un determinato programma mi servono entrambi mi costruisco due strutture dati perché pezzi di programma di parti di programma diverso hanno bisogno di operazioni diverse o qua ci sono almeno altri due modi per rappresentare questa informazione qua una è quella a lista di liste che abbiamo usato finora e mi permette di accedere di accedere anche rapidamente a una certa posizione e magari anche alle posizioni adiacenti eccetera quindi potrei anche fare una lista di liste con le stesse informazioni dove gli indici a questo punto sono impliciti 1 3 non lo scrivo più come chiave ma è automaticamente l'indice più 1 della mia lista oppure potrei averlo proprio come lista di pezzi magari di tuple in cui 1 3 re virgola 2 2 pedone e così via è un altro modo dipende da cosa si deve fare l'importante è avere ben chiaro in mente qual è la struttura diciamo concettuale delle informazioni che sto elaborando e poi trovare una delle tante rappresentazioni usando le strutture dati del linguaggio che mi permetta di elaborarle nel modo più comodo per l'algoritmo che devo fare la scelta della struttura dati dipende dall'algoritmo sono sono legati uno dei primissimi libri di testo universitario di informatica quando si è iniziato ad insegnare informatica insegnava linguaggio pascal che adesso ormai non è più utilizzato ma è stato proprio pensato per scopo di dati si intitolava proprio così strutture dati più algoritmi uguali programmi per dire la dualità di quello che era l'algoritmo operativo le operazioni ma anche la struttura dati che lo supporta perché i due sono strettamente correlati questo stesso problema lo posso presentare in un modo ancora diverso qui ad esempio sono andato a guardare su wikipedia come gli scacchisti rappresentano le posizioni e i pezzi e quindi righe e colonne non sono da 1 a 8 da 1 a 8 ma sono da 1 a 8 e da A a H cioè le righe sono apprendate da lettere e le colonne sono apprendate da numeri quindi la mia posizione la mia chiave la scrivo in un modo che sia più consapevole più naturale per uno scacchista cosa che io non sono e il valore magari uso il simbolo che ne so re pedone torre e il colore bianco e nero non ci avevamo pensato finora ma se mi serve questo attributo allora il nome di un pezzo diventa di nuovo un valore fatto da più componenti che posso mettere in una tupletta e così posso riconoscere quel pezzo riconoscere il suo tipo di pezzo è una torre il suo colore è nero piuttosto che bianco sono modi diversi di rappresentare questa informazione dipende dal livello del dettaglio dipende dalla complessità dipende dall'algoritmo ecc e questo era il primo mestiere che fanno i dizionari quindi avere dei dati dati che uso come chiavi a cui associo dei dati aggiuntivi delle informazioni aggiuntive dove però il cuore è avere a disposizione le coordinate delle caselle le matricole degli studenti il nome della parola a cui puoi agganciare l'informazione che ci serve nella prossima ora invece vediamo un altro uso della stessa struttura dati in un modo completamente diverso per memorizzare dei record tipicamente useremo quando elaboreremo dei file tipo csv o cose simili facciamoci il quarto dell'intervallo e riprendiamo a lunedì 5 giudì a lunedì 5 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 a lunedì 5